nuovo arrivo in casa rosso blu nella mattinata di mercoledì il taranto attraverso un comunicato stampa ha ufficializzato l'ingaggio del portiere polacco dorian cecoschi classe 2001 alto un metro e 90 cresciuto nel suo paese nelle giovanili del progress di cracovia è stato acquistato nella stagione 2017 2018 dall'ellas verona ora per lui l'esperienza di taranto dopo un periodo di prova in riva allo ionio che durava dallo scorso mese di ottobre cecoschi completa il parco degli estremi difensori ionici il mercato del taranto comunque non è concluso infatti il ds rosso blu francesco montervino resta vigile per l'ingaggio di una punta che possa sopperire alle lunghe assenze per infortunio di vincenzo corvino e luis alfagheme